È stato un anno di intenso lavoro per gli agenti della Polizia Postale di Biella. I reati corrono veloci sul web. Sono state 61 le denunce ricevute negli ultimi 12 mesi, 38 gli indagati, tra cui 15 nell'ambito della pedopornografia e tutela dei minori online, 11 per frodi informatiche, 12 per reati contro la persona. Sono state 14 le perquisizioni eseguite, 5 gli incontri virtuali, se parliamo invece di attività preventive. Portati avanti con gli istituti scolastici, coinvolgendo 1.221 studenti e 31 docenti. L'età degli alunni coinvolti è sempre più bassa, proprio perché l'utilizzo dei social è sempre più precoce. Grazie. 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 Grazie.